Grazie a tutti. La smettiamo. La smetti tu. La smettiamo una volta per tutta. Non dovete trascendere. No, no, per cortesia. Mettetevi a sedere. Non puoi tranquillizzare un attimino, che lei si deve stare tranquillo, perché lei non è nessuno per fare delle domande a quel ragazzo lì, e lui non è tenuto a rispondere a lei, perché non è un processo inquisitorio, quindi si ridimensioni e si sieda gentilmente se si vuole sedere, se no stia anche in piedi così. No, 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 però facci, non iniziamo così. Fermi, oi, vado in pubblicità, vado in pubblicità, 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 fusi, se io non è... E comunque la terza età si è spostata, sappiatelo, io ne sono ampiamente fuori, insomma, perché ormai è oltre i 75, credo, la terza età. Da luglio tu fai 70 anni, no? Che bella! E te che non dicono l'età che c'hai testa! È un entroguardo! Grazie, eh, tante cose, ma fassero affari tuoi, no, eh! No, ma non è capace, no, ma se ne... Mamma mia! Vabbè, tu ne fai 44, allora... Ma perché te la prendi, scusate? Ma perché se non la rompi parla? Andiamo! Salvatore Marino! Lei lo ha fatto diventare un uomo? E te straparli! No, no, no! Ma sai tu, capra, loca, ignorante! E' matto, ma tu sei matto veramente! Ma tu sei matto veramente! Ma è rotta per te, ignorante e fascista! Ma vabbè, f*****o! Passa, 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 e te ne vai! Ma non sei fascista! Ma è f*****o! Ma è f*****o! Ma è f*****o! Ma è f*****o! Non ti permettere! Non ti permettere! Non ti permettere! Tu sei matto! Non ti permettere! Non ti permettere! Assolutamente! Di nominare mia madre! Sì, hai ragione! Perché lei ha detto nel camerino... Che ha detto? Non ti permettere! Mai più! Mai più! Ok? Mai più! Va bene! Mai più! Non camminare mia madre! Va bene ancora! Vai! va bene va bene va bene no 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 no